Salve a tutti ben ritrovati in questo nuovo video Poche ore fa Apple ha presentato finalmente il nuovo iPhone SE 2 L'iPhone SE 2020, quello che tutti pensavamo dovesse chiamarsi iPhone 9 In realtà Apple semplicemente lo ha chiamato iPhone SE 2020 Qual è la sostanziale novità di questo nuovo iPhone? Intanto va ad accontentare quelle persone che ancora sono rimaste legate al vecchio design degli iPhone Quello appunto con il tasto Home e il Touch ID con i cornicioni sulla parte frontale Sì perché c'è gente ancora che non riesce ad abituarsi al gesture e all'attacca Comunque è un telefono full screen Ma ancora si trova meglio con i pulsanti Home e quant'altro Sostanzialmente quali sono le novità di questo iPhone? Che esteticamente è un iPhone 8 Quindi con il retro in vetro La parte anteriore ovviamente in vetro I colori sono 3, production red Quindi il rosso, il bianco e il nero Tagli da 64, 128 e 256 giga Il prezzo è la vera novità Perché il 64 giga parte da 499 euro Fino a salire poco nei vari tagli La vera novità di questo iPhone SE 2020 è all'interno Perché se esteticamente può sembrare un iPhone retro Quindi vecchio stile Internamente questo nuovo iPhone ha il motore dell'iPhone 11 Pro Quindi capite bene che un iPhone che parte da 499 euro Con all'interno il processore Apple Bionic A13 E' davvero una bomba Perché è l'ultimo processore più potente Che troviamo in circolazione Quindi ha tutte le carte regole Per vendere tantissimo questo nuovo iPhone Proprio per quelle persone che non possono E non vogliono spendere tanto Però vogliono un telefono prestante E questo sarà molto prestante Perché monta quel processore E quelle persone appunto Che cercano ancora il Touch Home su un iPhone Quindi troviamo appunto l'Apple Bionic A13 E la RAM credo sia intorno ai 3 giga Come gli ultimi iPhone 11 Posteriormente troviamo una singola fotocamera Da 12 megapixel Dovrebbe essere quella che troviamo su iPhone XR Frontalmente la selfie camera da 7 megapixel E ricarica wireless Tutte le ultime tecnologie waterproof Quindi impermeabile Quindi sostanzialmente abbiamo un iPhone Con l'aspetto retro vecchio stile Ma con tutte le caratteristiche O meno quasi Degli ultimi iPhone del 2019 Quindi processore potente Una singola camera ma prestante Che riesce a fare comunque effetto bokeh Come l'iPhone XR E' un prezzo molto molto aggressivo Quindi il mio modo di vedere Quest'iPhone venderà abbastanza Perché non si è mai visto un iPhone Con queste caratteristiche Quindi aggiornatissimo Molto potente A 499 euro Quindi nello specifico Sicuramente lo andrò a prendere Per cambiare il vecchio iPhone SE Di mia moglie Quindi avrò modo anche molto presto Di testarlo E niente ragazzi Questo è il nuovo iPhone 2020 Per quanto riguarda la fascia base Base non direi tanto Perché davvero Sarà davvero molto molto prestante Per questo video è tutto E non ci resta che salutarci E vederci in un prossimo video Ciao ragazzi